è una foto di quelle bellissime che di certo non può e non deve passare inosservata quella che riprende o meglio ritrae sul tramonto, sullo sfondo un bellissimo tramonto dove si vede in primo piano il bellissimo Felix e Chiara Ferragni che si danno un bacio o meglio si sfiorano dolcemente le labbra e sono vicini l'uno all'altra, l'altra all'uno Chiara vestita di nero, un unico abito di colore nero con i capelli sciolti, biondi sulle spalle, bellissimi Felix fantastico dal punto di vista estetico, bellissimo, sexy e affascinante con un'espressione chiusa negli occhi sia lui che lei e con una maglietta unica di colore bianco e i capelli leggermente impomatati, forse con l'utilizzo di un gel ma è una foto veramente bella, ripeto, e affascinante quella che è stata pubblicata di recente su Instagram con la matamoglio non è una foto di quelle brutte anche perché dietro c'è un bellissimo tramonto che si può notare, si può vedere e il mare calmo, tranquillo e sereno di non so quale città, italiana non so se si tratta di Francia o Spagna anzi si, si tratta di Spagna, infatti si tratta di una foto a Ibiza per la precisione, quindi in Spagna bene, complimenti dunque a Chiara Ragni, bellissima, sexy e affascinante, bellissima davvero e al buon Felix bellissimo come sempre che per l'occasione ha scelto una maglietta bianca un giense nero con tanto di cinta lei invece aveva una maglietta nera, però l'ho vista tutta per l'estero e una gona di colore grigio a regentato, quindi molto bella iscrivetevi al canale Narratore Italiano e commentate sia chiaro che questo video non vuole l'edere della private di Ferex né di Chiara Ragni ma solo informare eventuali persone e complimentarmi con loro questo è considerato che sono entrambi due personaggi pubblici ok? Da Narratore Italiano tutto, ciao a tutti